è particolare anche alla persona che sicuramente ci ha fatto crescere umanamente tantissimo ha messo a disposizione tanto tempo, è venuto da Luca apposta è una persona che oltre a insegnarci qualcosa sul teatro ci ha veramente fatto crescere umanamente come persone perché come prima cosa soprattutto ha stimolato i nuovi domande e siamo così un po' tutti maturati e il nostro regista si chiama Vincenzo Morita 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 Vincenzo Morita